e bella a tutti ragazzi benvenuti oggi siamo qui ritornati con un video ragazzi oggi userò la p90 ext entriamo subito dopo due round sempre in svantaggio che novità e cerchiamo di recuperare questo game ragazzi e possibilmente vincerlo comunque ragazzi ho registrato ieri una clan war in più ho registrato un video dove spiego come funzionano quali sono oggetti migliori a comprare e tutte le cavolate li quindi probabilmente domani e dopo domani caricherò sempre un video oggi adesso sono nel 6 tipo questa notte lascerò un video quindi voi domani avrete il video domani sarebbe il 24 il 25 anche e poi il 26 presuppongo di no perchè io devo partire ragazzi devo andare fuori e tipo per una settimana non ci sarò di conseguenza penso di caricare un paio di video programmati che poi usciranno dopo tipo uno o due giorni che io non ci sto comunque sia cercherò di portarvi almeno un video ogni due o tre giorni tipo niente di che però comunque sia cercherò di portarvi qualcosa giusto per magari quelli che mi seguo non possono vedere qualcosa ok questi c'è invasi da lì meglio se non sto qua perchè mi possono uscire a due parti oddio oh ma che cazzo oh che è successo ma mi ha preso l'elmetto così a cazzo duro ma che problemi c'ha la gente io devo capire sarà perchè è il primo game però porca vacca sono così scarso bah comunque ragazzi oggi ho giocato abbastanza a un giochetto che si chiama Farcare 4 è veramente carino ho pensato ma l'hq si non lo so comunque sia ho pensato che non è niente male come gioco ragazzi e boh se voglio probabilmente cercherò di portarvi anche qualche gameplay perchè è molto carino però magari aspetto prima qualche giorno cosicché riesco a arrivare a un certo diciamo grado di abilità perchè ci gioco soltanto da ieri tipo ancora non so fare niente devo un attimo abituarmi ai comandi abituarmi al modo di giocare tutte le cose lì ok 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 dove sta qua dove sta ok questo round è diventato all'improvviso mergioso ma dai ma dai e vabbè comunque si ragazzi sul video dove diciamo parlo di quali sono le armi migliori con cui iniziare ho anche parlato di ad esempio quali oggetti comprarti come vestiti maschere tutte le cose lì praticamente ho cercato di spiegarvelo il video è uscito un po' lunghino tipo 11 minuti però comunque si ho preferito farlo un po' lungo piuttosto che corto e non preciso però dai comunque si a quelli che hanno voglia magari dopo se lo vedono tutti quelli che non hanno voglia non lo vedono tutto tanto che sembra così che funziona ma perché la gente esce boom io esplodo vabbè sarò scarso io ragazzi sarò scarso io forza forza gengidama facci sognare questo round mi puzza di perso no a te questo non citta infatti bah oddio sinceramente non so se citta però se ha fatto quella cosa così a cazzo duro non mi pare uno che è pulito però dai non sapevo che stavo qui quindi per suppongo che può essere pure che non cittava è da sopra e dai oh e copri ma porco due cioè quello là è rimasto lì non se l'ha cagato ha ucciso prima a me che stavo lontano dopo è morto quello vabbè ragazzi questo episodio lo chiamerò point of sclero anche perché sarebbe cioè come titolo ha pure senso perché arrivi fino a un punto che scleri quindi vabbè lasciamo perdere questi dilemmi sembra round lenti forza fra movimento ragazzi sembra se i round escono dando lunghi e pallosi probabilmente cercherò di tagliarveli perché dopo che ci ho ragionato abbastanza nonostante che all'inizio pensavo di non tagliarveli ho detto magari se il round è abbastanza brutto e rompi palle lo taglierò anche perché così almeno se sto zitto a volte anche perché sto concentrato la parte che è un po' più pallosa magari ve la taglio oppure non so comunque si ancora devo vedere bene come organizzarmi col video di plus in blow perché già se facevo un gameplay normale potevo lasciarvi tutto il gameplay cosa che adesso posso pure fare guardo c'è i doppi esplodi no ma le doppie basta ragazzi questo gioco invece di usare la p90 io comincerò a usare le doppie perché mi sono rotto le scatole no dai regà guarda tutti ha le doppie tutti vabbè a te mi metto pure io le doppie se loro vogliono giocassero così me lo gioco pure io così forza fra forza e lui va vabbè intanto io bevo un po' d'acqua forza andiamo guarda tocca verde ma a parte a te siamo i rossi quindi possiamo rossiare tranquillamente andiamo con le doppie lancio granata poi rossio ah vi piace quando usa le doppie eh figlio puttana guarda la partita la testa ma lui ma lui di morire non ne sa niente forza fra ma io il cambio arma veloce c'era oddio sapete che mi sa che io non mi son messo il cambio arma veloce devo guardare la velocità con cui cambio arma no no ce l'ho cazzata esplodi ok è morto questo guarda il cielo ok andiamo adesso aspettiamo oddio camel blue se mescula oh così va meglio se mesculava l'headshot dio santo ok let's go beh piace quando anche io uso le doppie tu passami il cecchino fammi però sto cecchino oh perché non mi butta arma boh non mi fa droppare scusa non droppava oh ma che vabbè camperiamo ma che camperi ma che cazzo questo vola lol oddio che brutto rumore ma dai l'ho preso si è visto pure vabbè e non mi da neanche l'assist che bella cosa comunque ragazzi stavo pensando di portare male qualche video anche su clash royale perché tipo ho visto che su youtube adesso lo fa tutti anche perché ci gioco io oramai da un pezzettino sto scarso solo spammando ho pensato magari perché no cioè non è male come come video che potrebbe uscire poi alla fin fine e vabbè però ma ragazzi so io che laggo che cazzo è va e manco google chrome si apre gg vabbè ragazzi che cosa fare purtroppo il video è finito così mi hanno letteralmente arato il culo però purtroppo non si può sempre vincere spero che il video vi sia piaciuto se non l'avete fatto iscrivetevi se avete qualche domanda scrivetelo sempre nei commenti e ci vediamo in un prossimo video bella a tutti ragazzi